Benvenuti cari telespettatori, e cari telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che potete vedere in sovraimpressione, all'email vallefoglia-rossinitv.it oppure alle pagine social di Rossini TV presenti su Instagram e su Facebook. Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine, che apriamo parlando della decisione del Comune di Vallefoglia di nominare cinque ispettori ambientali per cercare di contrastare il fenomeno sempre più diffuso dell'abbandono dei rifiuti. I dettagli all'interno di questo primo servizio. Cinque nomi per cinque ispettori ambientali. Sono cinque infatti gli addetti al controllo delle norme sul servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nominati in settimana dal sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli. Maggi Michele, Sparacca Lorenzo, Paci Vittorio, Gurini Caterbo e Balducci Emanuele. Queste sono le figure formate da Marche Multiservizi incaricate di accertare ed eventualmente contestare le violazioni dei cittadini, riportandole poi agli agenti di polizia che a quel punto interverrebbero con una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque abbandoni o depositi rifiuti. Una decisione è arrivata in seguito ai ripetuti casi di inciviltà che si sono presentati in questi anni e che Rossini TV si è sempre impegnata a denunciare. La nome degli ispettori serve per far capire alle persone che non rispettano i regolamenti che non si possono buttare cose fuori dagli spazi imprevisti e consentiti. Le ramaglie e tutte le altre cose possono essere portate nel deposito di Marche Multiservizi a Montecchio, fatta apposta, sollecitato da noi. Questi cinque ispettori nominati da me l'altra mattina servono per far capire che bisogna rispettare le regole e non bisogna buttare le cose se non nei luoghi consentiti, le norme, nei cassonetti, nel deposito per cui riguarda i materiali ingombranti e le ramaglie a Montecchio e quindi un ambiente, una sostenibilità ambientale di primo ordine in una città come quella di Vallefoglia. A livello pratico è quello di vigilare in questi 15.000 abitanti della città di Vallefoglia, che è il terzo comune della provincia, perché non ci siano i fessi che buttano robe dove non devono buttare. Le ramaglie si possono buttare nei cassettoni, si possono portare a Montecchio e tutto va fatto come raccolta differenziata per una buona gestione urbana dell'ambiente. Una manutenzione fondamentale. È stato questo il commento del sindaco di Vallefoglia, Palmiro Cchielli, di fronte ai fondi stanziati dalla regione con lo scopo di evitare allagamenti a Montecchio. 900.000 euro dei 7 milioni destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico serviranno proprio ad evitare l'allagamento del paese di Montecchio a causa dello straripamento del torrente Taccone. Un torrente che attraversa i comuni di Vallefoglia, Montelabate e Tavuglia e che presenta argini fragili e privi di manutenzione da troppo tempo. Un intervento necessario visto i fenomeni meteorologici degli ultimi tempi, caratterizzati da lunghi periodi di siccità e da improvvise bombe d'acqua. L'importanza delle api per il nostro ecosistema spesso passa inosservato. Il comune di Montelabate in questi anni si è invece adoperato in questo modo per salvaguardare gli insetti impollinatori. Vediamo. Il progetto in realtà è datato, nel senso che è iniziato un anno e mezzo fa, che nasce con l'idea di salvaguardare le api e più in generale gli insetti impollinatori. In realtà non è un'idea nostra. L'idea nasce in Veneto dove 15 comuni, assieme ad APAT, che sarebbe l'associazione degli apicoltori veneti e Confagricoltura, gli venne in mente di far nascere questo progetto, cioè quello di seminare la faceglia. Ecco perché oggi siamo qua. Perché la faceglia? La faceglia è un fiore che rispetto ad altri fiori è pieno di nettare in proporzione agli altri fiori, per cui diventa un'attrazione incredibile per le api e in generale per tutti quelli che sono gli insetti impollinatori. La fase 2 è quella di coinvolgere altri comuni. Come è accaduto in Veneto, e dicevo prima che sono stati coinvolti 15 comuni, la nostra intenzione era di fare la stessa cosa anche qua, cioè di replicare allo stesso modo. Per cui abbiamo pensato di coinvolgere i comuni che fanno parte dello stesso bacino idrografico della Valle del Foglia. Per cui ieri mattina è partita una lettera a tutti i comuni, che ne abbiamo contati circa una ventina, che vanno praticamente da Gabicce Mare fino all'ultimo comune su nell'entroterra, che è Carpegna-Pietrarubbia. Terza fase è quella assieme, io sono anche collaboratore della consigliera regionale Marta Ruggeri, che anche lei quando ha visto la mozione gli è subito piaciuta, per cui ha portato la stessa mozione e l'ha portata in consiglio regionale. Probabilmente nell'arco di Uola, l'abbiamo già portata circa un mesetto fa, per cui i tempi dovrebbero essere che fra un paio di mesi passa anche in consiglio regionale, probabilmente potrà diventare addirittura un progetto regionale, questo ci auguriamo. Per concretizzare questo progetto abbiamo chiesto la collaborazione di Aspes, che è il nostro referente ambientale in materia del verde, e in questo campo erano previsti 5 tagli, per cui il comune doveva pagare questi tagli, in questo bellissimo anfiteatro sopra le scuole medie, e abbiamo individuato quest'area perché si prestava benissimo per questo progetto, e quindi quest'anno e l'anno prossimo, con solo tre passaggi di aratura, contiamo di sostituire i 10 tagli previsti e coprire il costo di questo progetto con i risparmi dei tagli che non verranno eseguiti, quindi sono meno passaggi dei mezzi che passavano qui a tagliare l'erba, e speriamo di fare qualcosa di utile per l'ambiente. Proprio perché lavorando la faceglia, questo campo, praticamente i mezzi sono passati, i trattori sono passati solo tre volte, uno per arrare la terra, per sfinarla e per seminare, mentre in due anni se avessimo continuato a tagliare l'erba, i mezzi sarebbero passati 10 volte, 5 volte all'anno. E questo cosa significa? Meno gasolio, e sappiamo che adesso è un grosso problema quello del gasolio, e meno inquinamento. Può essere pericoloso il fatto che qui ci sia un percorso pedonale, che in questo campo, in questo terreno ci saranno delle api? Le api sono degli insetti che volano, che fanno il loro lavoro, non è che attaccano l'uomo, quindi le persone possono tranquillamente passare, quando sarà fiorito speriamo di ammirare anche un bellissimo paesaggio, che già si presta come anfiteatro ad una magnifica vista su tutta la vallata. Lega Ambiente ci ricorda qualche tempo fa che negli ultimi 30 anni abbiamo perso quasi il 70% della massa volare, quindi degli insetti, in Europa stiamo parlando. Per cui è un dramma, è veramente un dramma. Ricordo che solo in Italia ci sono 960 specie di api. Quindi un terzo del cibo che è nelle nostre tavole dipende dalla loro impollinazione. Senza di loro, non lo so se forse la specie umana possa sopravvivere lo stesso, ma sicuramente non in questo modo. Sabato 14 maggio si celebra la Notte dei Musei, la giornata internazionale che prevede la perdura straordinaria dei musei di tutta Europa. Un evento al quale il Comune di Vallefoglia ha deciso di aderire, aprendo le porte del Museo delle Muse e delle Ninfe del Centro Culturale Giovanni Santi di Colbordolo, del Museo della Mezzadria di Pontevecchio e del Museo Diffuso della Torre dell'Arte di Vallefoglia di Sant'Angelo in Lizzola. Un percorso offerto ai cittadini per far conoscere la storia e le tradizioni del territorio di Vallefoglia al quale è possibile partecipare gratuitamente prenotandosi al numero di telefono 349-8062-441 oppure sulla pagina Facebook TAV Torre dell'Arte di Vallefoglia. E il Comune di Montelabati in questi giorni ha aperto ufficialmente le iscrizioni sulla sua pagina Facebook al Servizio di Trasporto Scolastico per l'anno 2022-2023. È possibile iscrivere i propri figli solo attraverso l'istanza online disponibile sul sito istituzionale del Comune presentando la domanda entro e non oltre il 30 giugno 2022. Iscrizioni aperte anche per la Colonia Marina 2022 che riguarderà le due prime settimane di luglio da lunedì 4 a venerdì 15 esclusi i festivi. Per presentare la domanda è necessario recarsi sul sito del Comune di Montelabate entro il 15 giugno 2022. E dopo due anni di stop causa pandemia è ripartita a grande richiesta la mostra del libro per ragazzi di Vallefoglia. Alla giornata inaugurale di sabato 7 di maggio erano presenti anche le telecamere di Rossini TV che hanno dato vita allo speciale realizzato e è andato in onda mercoledì 11 di maggio. Vediamone ora un breve strato. Vi trovo a Bottega nel Comune di Vallefoglia per la precisione sono all'interno del palafoglia sesto ondedei di Bottega. Ebbene sì, è partita la 43esima edizione della mostra del libro dei ragazzi. Siamo arrivati alla 43esima mostra riparte dopo due anni di stop e ricordiamo che sarà attiva fino al 14 di maggio prossimo. Io ho inaugurato 43 anni fa questa mostra che è una ragazza poco più quarantenne e ritorna dopo due anni di covid ed è veramente una mostra davvero straordinaria perché nel frattempo è cresciuta credo che sia l'unica nella provincia di Pesurbino forse tra le poche se non l'unica nelle Marche e una delle più importanti nel centro Italia parafrasando con la mostra del libro di Torino è una mostra che è cresciuta di qualità di quantità e di interesse. Come sempre la mattina faranno visita le scuole le classi del nostro territorio verranno a visitare i numerosi esposizioni e i laboratori che ci sono. Il pomeriggio è ingresso libero e ci saranno tutti i giorni un laboratorio con diverse persone, diverse associazioni che organizzano queste iniziative. Siamo voluti ripartire proprio infatti da dove ci eravamo lasciati a marzo 2020 quando a causa del lockdown abbiamo dovuto interrompere i preparativi per la mostra che era già avviata. Il tema appunto era il centenario di Gianni Rodari e abbiamo voluto pertanto intitolarla proprio fantasticamente 100 più 2 anni di Rodari proprio per significare anche questi due anni di stop e di chiusura. Abbiamo corso contro il tempo perché la decisione di svolgere questa edizione è stata presa un po' all'ultimo a causa delle restrizioni che sono state imposte e nel momento in cui l'amministrazione ci ha proposto di realizzare questa mostra in breve tempo non abbiamo esitato abbiamo comunque detto subito di sì. Noi siamo soddisfatti del nostro lavoro ci aspetto una settimana piena di laboratori attività con i bambini la mostra dedicata a Gianni Rodari quindi un'istituzione il centenario che ricorreva nel 2020 non potevamo sottovalutarlo e quindi l'abbiamo riproposto 100 più 2 e non a caso abbiamo voluto evidenziare questi due anni di stop proprio dal titolo. Il titolo fantasticamente perché abbiamo comunque voluto riprendere la tematica della fantasia che è tanto declinata insomma in tutte le teorie di Gianni Rodari. E si sono conclusi in settimana col bordolo in Piazza del Popolo i lavori di rifacimento della pavimentazione in Selciato. La ditta che ha eseguito i lavori per conto di Marche Multiservizi da venerdì scorso 6 maggio 2022 ha riaperto al transito l'intera piazza riportandola allo stato originale. I lavori in questione hanno riguardato la pose in opera delle nuove condutture sia per la metanizzazione che per la depurazione. Questi lavori sono stati eseguiti in diversi punti del paese di Colbordolo e Marche Multiservizi si è impegnata ad eseguire i lavori di rifacimento del manto stradale nei tratti interessati dagli interventi entro la prossima estate. Selciato rifatto è completato anche nella frazione di Belvedere Fogliense nel comune di Tavuglia inaugurato nella giornata di sabato in presenza anche del sindaco Paolucci dell'assessore Bertuccioli e di numerosi cittadini. Un tratto di strada in ciottolato che passa nel centro storico del paese e che aveva la necessità di un rifacimento visto il rovinoso stato in cui versava. Il taglio del nastro è avvenuto sabato 7 maggio al termine della camminata del Belvedere un'escursione storico-culturale immersa nelle campagne di Belvedere Fogliense e le frazioni limitrofe che ha visto partecipare numerosi cittadini. Erano più di 100 i partecipanti che hanno colto l'occasione di assaporare la storia, la natura e i paesaggi mozzafiato che è in grado di offrire il territorio comunale di Tavuglia. E come di consueto concludiamo il nostro TG parlando di sport. Parliamo di calcio in particolar modo partendo dal campionato di promozione e dal K-Sport Montecchio che in casa contro la primatista Osimana è stato sconfitto per 2-0 vedendo i play-off allontanarsi ulteriormente. Dentro ai play-off c'è invece il Valfoglia che sembra averci preso gusto vincendo per 5-1 contro il fanalino di coda del Cantiano portandosi ora a 49 punti. In prima categoria a tre giornate dalla fine c'è un'osteria nuova che sembra non accontentarsi dei play-off ma che punta addirittura al primo posto. Altra vittoria altro regalo per i bianco-azzurri che dalla trasferta di Tavernelle escono con tre punti vincendo per 2-1. Ora la vetta dista solamente 2 punti. A meno 1 dall'osteria nuova si trova l'Atletico Tavuglia che nella giornata di sabato è tornato alla vittoria contro l'Audax Piobico aggiudicandosi lo scontro diretto per 1-0. E con le notizie di sport si conclude qui questa nuova edizione delle Valle Foglie e Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo 20 di maggio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.